Ciao ragazze e ciao ragazzi allora mi vedete conciuata come lo scorso video perchè è lo stesso giorno e sono qui per mostrarvi le applicazioni che sono contenute nel mio ipad mini questo è l'ipad mini, quello nuovo il 3 penso, quello che è tipo l'iphone che ha l'impronta digitale qua ho fatto già la ripresa e vi faccio vedere tutte le mie applicazioni non ho tantissime applicazioni, ho voluto fare questo video un po' perchè così mi potete consigliare da brave ragazze le vostre applicazioni preferite perchè io mi diverso tantissimo a scriverne di nuove ma più che altro perchè per noi universitari penso che l'ipad sia molto molto comodo io utilizzerò spesso l'ipad per ordinare meglio gli appunti stamparmeli e tenerli bene ordinati, non uso il computer per questo perchè sull'ipad c'è tutto un sistema che mi permette di mettere le cose un pochino più ordinate, fare powerpoint e poi me lo posso portare direttamente dietro perchè è piccolo e compatto anche per la biblioteca eccetera però lo uso anche per tante e tante altre cose ho voluto questo come regalo di maturità da parte dei miei genitori abbiamo trovato un'offerta spettacolare su ebay consigliatissimo cercare queste cose su ebay perchè è vero che lo volevo da un bel po' però mi serviva appunto per questo motivo anche per scaricare magari qualche libro per evitare di far spendere troppo i miei per i libri universitari, per gli autori, per cose del genere per tenere diverse cose che sul telefono non posso avere perchè c'è troppa poca memoria sul telefono e ci sono 128 giga quindi posso fare un po' quello che mi pare insomma per comodità generali dubito di dovermi giustificare vi faccio vedere meglio da qua perchè non ve l'ho fatta vedere la cover che mio papà mi ha preso ed è una cover di quelle che si chiudono è veramente molto molto carina quasi di fintissima pelle bianca già si è tutta sporcata perchè io ho l'iPad quando la lancio a tutte le parti però senza cover si sarebbe troppo rovinato tra l'altro è una di quelle che io amo che si vede la mellina qua dietro è un dettaglio che mi piace molto anche a alcune cover per il telefono così ho voluto questo e non un tablet perchè così può comunicare facilmente sia con il mio computer che con il telefono perchè io sono Apple addicted ormai però anche i tablet sono favolosi ragazzi penso che i processori Android in realtà siano anche meglio dell'Apple però io ormai ho tutto così e mi trovo molto meglio così però insomma va bene basta fare finta di essere tecnologici la cover è carina perchè permette all'iPad di tenersi anche dritto così così per scrivere o per vedere i video la mattina è comodo e va bene e quindi nulla direi di lasciarvi al video può anche ruotare l'iPad su questa cosa e quindi niente potete metterlo un po' come volete se vi va di girarlo un pochino mi diverto sempre a girarlo e va bene e quindi vi lascio alle applicazioni spero che il video vi piaccia ok allora mi vedete nel riflesso della cosa ed è molto preoccupante non so neanche dove devo guardare comunque cominciamo subito così non vedete più allora sperate che sia sbloccato subito perchè ho l'iPad con l'impronta digitale allora questo è lo sfondo siamo io e Elvi e niente ho l'iPad mini 3 quello nuovo che ha il tastino con l'impronta digitale quindi si sblocca subito allora come potete ben notare intanto è sulla sua cover così è dritto ho tutte quante le applicazioni in una sola pagina perchè ho raccolto prima che mi strozzo ho raccolto tutte le applicazioni in diverse cartelline che hanno i vari nomi che ha dato appunto lui da solo perchè appunto così è molto più ordinato senza che devo cercare applicazioni in giro per l'iPad allora vi faccio vedere intanto le 4 che sono qua sotto che sono le classiche che sono anche fuori fuoco oltre a essere classiche vabbè sono i messaggi la mail safari e la musica quindi sono appunto applicazioni standard che tengo sempre qui anche se in realtà il mio iPad appunto non scorre perchè ho soltanto una pagina però appunto sono queste 4 allora qui in alto troviamo le uniche 2 che apparentemente cioè sono 4 le applicazioni che non sono appunto dentro le cartelline che sono le foto che molto banalmente sono queste che sono raccolte in diverse cartelle sempre fatte dall'iPad da solo poi la fotocamera poi abbiamo navigazione lui l'ha chiamato però in sostanza è la cartella delle nullità cioè sono delle applicazioni che io non utilizzo mai neanche sul cellulare cioè non soltanto qui quindi sono tipo le mappe video l'orologio FaceTime i contatti Game Center Podcast Suggerimenti il calendario trova amici trova iPhone Numbers iCunes iMovie e GarageBand GarageBand ogni tanto lo utilizzo infatti sto meditando se spostarlo iMovie non lo uso praticamente mai perchè non faccio quasi mai video dall'iPad e quindi niente non le uso mai Social abbiamo appunto Social come l'ho detto Social diciamolo più terra terra ci sono appunto tutti quanti Social questa è in assoluto la cartellina che utilizzo di più perchè utilizzo spessissimo l'iPad per diversissime cose diversissime ok quindi abbiamo ben 12 social cartelli di social o comunque simili social abbiamo Twitter che ultimamente sto utilizzando spessissimo e vabbè è inutile che l'ho aperta perchè tanto sapete tutte quanto funziona Twitter comunque la utilizzo molto spesso se volete seguirmi il nome è sempre sotto nell'info box poi abbiamo Facebook YouTube chiaramente Messenger che è la chat di Facebook anche se penso che adesso si possono scollegare però non lo so comunque sta lì Skype che uso relativamente di frequente per chiamare i miei zii dall'Africa WeHeartIt che è un'applicazione che adoro ho anche sul telefono come anche queste altre e la utilizzo veramente quasi sempre per scaricare foto di qualsiasi genere la adoro poi Pagine che è l'applicazione di Facebook per controllare la pagina pubblica TripAdvisor che è la mia salvezza ad Amsterdam utilizzavo sempre TripAdvisor per cercare appunto tutte le cose da vedere qui potete prenotare i viaggi quindi potete controllare inserite la città dove siete o dove andate potete cercare gli alberghi i ristoranti le attività da fare non soltanto ma anche i voli le migliori offerte tutte queste cose cosa c'è nelle vicinanze potete leggere le recensioni delle altre persone in modo che abbiate qualche informazione in più su appunto determinati luoghi ristoranti musei attrazioni cose del genere di qualsiasi città è veramente fantastico poi Blogger che in realtà è piuttosto inutile perché io cerco di tenere un blog disperatamente ma non riesco però vabbè è qui nella speranza che prima o poi riesco ad utilizzarlo poi abbiamo Bloglovin che avete visto nel mio ultimo video blog che è la mia ossessione del momento è un'applicazione in cui potete seguire tutti quanti i blog quindi vi si caricano automaticamente tutti quanti i nuovi post e adesso io seguo prevalentemente i blog di make up un paio di moda e di gastronomia quindi di cucina ma ce ne sono tantissime quindi ogni tanto vado a vedere magari cosa seguono vedete vi dicono Tana del Coniglio che è un blog di cucina segue questo magari lo segui anche tu e niente è un'applicazione veramente fichissima per essere sempre aggiornate sui blog generali poi Pinterest che è un'applicazione che in realtà non capisco molto però ho provato a rimetterla qua sull'iPad perché ho molta memoria e quindi ho detto ok vabbè ce la possiamo fare vabbè adesso mi devo registrare perché l'ho appena scaricata comunque è tipo sempre un social network dove vengono pubblicate fotografie di qualsiasi tipo anche con di tasca lì molto ampie ma veramente di qualsiasi tipo di fitness di moda di trucco di cucina di DIY tantissime cose e poi TV Showtime che è fichissimo e potete appunto organizzare tutte quante le vostre serie TV vi registrate quelle che se mi volete trovare che sono Margherita Savelli sempre qua potete appunto vedere scaricare insomma aggiornare una playlist o tutte le serie TV che avete visto che volete vedere che state vedendo e vi avvisa quando ci sono episodi nuovi online e niente potete aggiornare appunto se siete in pari o meno con le serie TV e vi dice anche quanto tempo avete speso a vedere le serie TV va bene e quindi questa è la cartellina social ci ho messo un sacco poi network è abbastanza inutile anche questa utilizzo quindi questo è soltanto iTunes Store e App Store per scaricare rispettivamente musica e applicazioni ma penso lo sappiate e i libri le note che non uso tipo mai i pro memoria che non uso tipo mai e keynote che non so neanche che cosa sia ma va bene Utility Utility c'è un po' di tutto abbiamo Books iBooks non Books sono senza occhiare scusate iBooks che appunto è la libreria virtuale praticamente in cui appunto ci sono tutte le cose adesso è aperto questo libro perché Giulia lo sta qua leggendo ma vedete qui ci sono dei libri che ho scaricato non sono la grandissima amante degli ebook però ogni tanto li leggo PDF Reader PDF Reader è un'applicazione che appunto scarica e legge automaticamente i pdf Pages che è la stessa cosa che c'è anche sul macbook praticamente che serve appunto per creare dei documenti in diversi formati poi Wikipedia non devo per forza aprire la Wikipedia come cacchio si dice Wattpad che è un'applicazione in cui potete è un tipo un blog con 600 miliardi di fanfiction che potete leggere ma ci sono anche diversi libri che potete scaricare se volete cioè voi ricercate magari storie d'amore e ci sono sia libri cioè tipo anche Nicola Sparks John Green eccetera eccetera ma ci sono anche appunto tutte le fanfiction di alcune ragazze Libraccio e ragazzi Libraccio.it è l'applicazione di Libraccio cioè per vedere i libri scaricare i libri c'è un dubito che ti può spiegare cosa è Libraccio e Google Maps che non devo spiegare che cos'è Stile di vita abbiamo diverse cose online c'è eBay Amazon Wish che è un altro tipo ebay e il catalogo dell'IKEA che in realtà non so perché ce l'ho però mi casava si è suicidato l'iPad giochi allora ho un sacco di giochini stupidi perché mi diverto Mucho Party è fighissimo potete giocare anche in due con dei giochini sempre molto ripetitivi ma molto allegri Impossible Game che è una droga Ristorante Asia e Xmas Bus sono due giochine di Dr. Panda sono troppo troppo carini sempre per piccoli bimbi ma io mi diverto a giocare Little Cousins è carino è tipo Impossible Game ma invece del quadratino ci sono dei mostriciattoli poi giochino di chi vuole essere milionaria perché mi diverto un sacco Icomania per indovinare i personaggi famosi eccetera e poi Briscole Scopa che sono i miei giochi preferiti di carte e poi c'è Sim City con cui sono ossessionata e poi dovete appunto curare la vostra città Temple Run 2 a ogni tanto gioco Paradise Bay che è sempre uno di questi giochi tipo Farmville in cui dovete curare i personaggi costruire città questo invece è tutto su un'isola e poi Sims The Sims Free Play in cui è sempre dei Sims tipo questo però qui potete proprio creare i personaggi e costruirgli la loro vita poi questo non ha un nome questa cartella in realtà ci voglio mettere delle applicazioni generali insomma che uso un po' per passare il tempo ce ne sono due di tatuaggi perché io e Elvi ci divertiamo a vedere i tatuaggi insomma per farci qualche idea per il futuro e poi voglio fare una cartella apposta per le cose di cucina però ancora ho soltanto già lo zafferano che intanto è qua che uso sempre poi abbiamo Photobooth che è quello per fare le fotografie con le facce strane e poi le impostazioni che dubito di dovervele spiegare ok ragazzi video è terminato io spero tanto che vi sia stato utile in questo video spero tanto che ci sia qualche applicazione che magari vi può interessare fatemi sapere qui sotto in un commento quali sono le vostre applicazioni preferite che cosa utilizzate di solito su queste cose sul tablet anche insomma non per forza sull'iPad fatemi sapere un pochino le cose che io sono sempre curiosa e niente ci vediamo al prossimo video allora ciao ciao